E' solo un cartello ma potrebbe essere benissimo un manifesto di intenti. Da qualche giorno nel piazzale del Nevegal è comparso un tabellone contenente le istruzioni per l'uso dell'Alpe Bellunese per informare gli appassionati di sci alpinismo sulle possibilità che il colle offre agli amanti delle escursioni sulla neve, oltre ai percorsi anche una serie di regole. Così un semplice cartello può aprire la porta a discorsi molto più ampi specie nel mondo dello sci alpinismo, sport che si basa molto su ciò che la natura offre e meno sulle infrastrutture. Qui si tenterà un mix grazie a una collaborazione tra Comune, Associazione Sportiva Nevegallica e Alpe del Nevegal. Lo sci alpinismo visto in chiave ski alp, ovvero una dimensione molto più semplice che possa utilizzare delle piste esistenti per agevolare principianti neofiti ma per promuovere anche uno sport di grandissimo livello agonistico. Non dimentichiamo che qui in Nevegal si sono disputati anche prove di Coppa del Mondo e campionati europei, quindi insomma abbiamo già avuto teatri di grandissimo livello. Guardiamo con favore tutte le discipline e attività che sviluppano il turismo e le presenze in Nevegal, commenta Piero Casagrande, amministratore delegato dell'Alpe. Per quanto riguarda lo sci alpinismo auspichiamo che le indicazioni esposte e comunicate consentano di praticare l'attività in sicurezza nel rispetto delle regole e del lavoro che svolgiamo tutti i giorni a servizio dei turisti e di tutti gli sciatori. Le regole appunto. Regole che permettano di rispettare anche il lavoro di tutti quanti, per cui ad esempio quella che può essere durante il periodo notturno il divieto di utilizzare le piste per rispettare il gran lavoro che stanno facendo e che fanno gli operatori per permettere di sciare il giorno dopo con delle piste perfette. Per cui rispettiamo la passione dei sci alpinisti ma rispettiamo anche il lavoro degli operatori degli impianti.